Quando stiamo realizzando un fumetto, un'illustrazione o un digital painting possiamo ricorrere all'utilizzo delle luci e delle atmosfere per enfatizzare la scena. Come per esempio in questo caso posso decidere di inserire un focus mettendo un livello al lavoro fatto finora, quindi sopra il digital painting che ho fatto finora. Cambio il metodo di fusione e lo porto in luce intensa e vado a scegliermi il colore della luce che voglio enfatizzare. Per esempio in questo caso voglio enfatizzare la luce della testa e della spalla. Oppure posso decidere di aumentare la luce degli occhi, quindi prendo un colore non più rosso ma verde e vado ad aumentarlo. Poi posso ovviamente abbassarne l'opacità e renderlo meno presente. Con lo stesso procedimento posso andare a creare una luce da fuori campo oppure enfatizzare il bagliore della luna, sempre scegliendo il colore più adatto. Quindi nel caso della luna un colore un pochino più caldo. E così facendo, accendendo e spegnendo il livello, ho chiaro come sia più dinamica la mia illustrazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.